L'ecosistema intorno alle start up come deve funzionare perché effettivamente si abbia un reale guadagno per la nazione per le start up e per gli investitori? Le risposte sono molteplici, una di queste viene data da questa occasione che è stata organizzata a Roma Start Up, onore e merito, la WIC è una grande occasione per diffondere un pensiero, per costruire una cultura che è la cultura dell'innovazione in generale ma direi del rischio perché se c'è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno nelle varie posizioni e funzioni è quello di rischiare, rischiare a fare un'impresa, rischiare a investirci, rischiare a cambiare per una grande impresa, ricorso molto il tema dell'open innovation, ciascuno di noi lo fa da posizioni diverse ma se la nostra società e il nostro mercato ha bisogno di qualcosa oggi è proprio questo, di rischiare e di rischiare a cambiare e che vuol dire di rischiare a fare qualcosa di buono. Stamattina c'è stato il panel sulla open innovation, io ho sentito grandi compagnie parlare di grandi progetti, devo dire non sono rimasto particolarmente impressionato, magari dalle parole sì, però sotto le parole sembrava che i fatti fossero veramente veramente pochi. Anzitutto le grandi aziende italiane, perché oggi abbiamo seguito loro soprattutto, sono in una fase in cui si stanno mettendo in discussione, non è facile per una grande azienda costruita magari su un modello di partecipazione statale, quindi molto gerarchizzato, mettersi in discussione, quindi già penso che sia positivo creare una funzione che serva a contaminare il pensiero e a mettere in discussione le singole funzioni di responsabilità, questo per dire che cosa? Che le soluzioni spesso possono trovarsi all'esterno, aprendo un pochino i ricinti della propria azienda a che cosa? All'idea che si possa fare qualcosa diversamente da come lo si è sempre fatto nel momento in cui magari si è sviluppato il prodotto migliore del mondo, ma il mondo intorno a noi gira una velocità di rotazione sempre più veloce, quindi è importante non perdere il passo con il resto del mondo, quindi un fatto in sé a mio avviso già lodevole è la creazione di una funzione di innovazione aperta all'interno di grandi organizzazioni che altrimenti rischierebbero di perdere il passo.